Musica Amici sportivi e soprattutto amici ciclisti, buongiorno. Siamo qui al track del Giro E dove c'è la birra San Gabriel. Oggi mi sono cimentato anch'io nel circuito con gli amici del Giro E con le bici a pedalata assistita. È stata veramente sul percorso del Giro d'Italia una cosa straordinaria. Oggi vedete alla mia spalla la birra ufficiale del Giro d'Italia che è la prima birra artigianale ormai da due anni che accompagna il Giro d'Italia in tutte le sue tappe, in tutti i suoi paesi, attraverso questo spettacolo di pubblico straordinario con ciclisti, fatica, slogan, prodotti tipici dei regionali. È stato veramente un Giro straordinario. Qui al nostro track diamo la birra, offriamo la birra agli sportivi e soprattutto agli atleti che hanno compiuto il circuito assieme a me ed è veramente una grande festa per tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.